Allora, se ci sono le questioni potete cominciare a a porre delle questioni ci sarà il fatto che bisogna passare attraverso una traduzione questo fa un po' di ritardo però facciamo così il problema che noi non possiamo il problema a mio avviso è che noi non possiamo va bene in concreto decidere il da farsi se prima non avremo verificato ma non è questo il problema c'è un mandato di perquisizione e un mandato di sequestro va bene? della copia del film per un'importazione ritenuta clandestina mentre invece noi dimostreremo domani che non c'è nessuna importazione clandestina abbiamo la polizia o in piazza o in capina che aspetti che arriva la copia noi la porteremo in dogana non da qui dalla Francia arriverà in dogana e vedremo vorrei aggiungere che noi siamo l'autorizzazione cioè il mandato di perquisizione cioè di potersi introdurre anche in luoghi privati quindi è stata tutto il giorno ad attendere per vedere se la copia del film fosse stata introdotta sarebbe stata introdotta in uno dei due cinema o nel circolo con la decisione di immediatamente sequestrarlo e procedere sul piano penale quindi qualsiasi diciamo iniziativa in questo senso oggi non poteva portare che matematicamente a un sequestro del film come colpo di reato mi sembra in pratica che la polizia abbia nel suo agente è specificato chiaramente quelli che sono i suoi intenti cioè il discorso del fatto del film di Godard mi sembra che al limite e spero di essere compreso diventi pretestuoso per la polizia stessa e che invece il fine che essa porti avanti è un fine ben più profondo ben più politico e che quello è quello in pratica di fermare, di bloccare quello che è l'iniziativa di queste giornate ora se voi come organizzatori ritenete che questo sia vero come si può intendere nella giornata di domani l'agire nostro al di là di quello che giustamente mi pare abbia già specificato Piero Fai una proposta siamo qui per discuterne non deleghiamo gli organizzatori a decidere la mia domanda non è la richiesta o la presuntuosa scelta di una proposta che così adesso per l'ume che arriva viene no è in pratica la necessità cioè ritengo opportuno a livello politico che l'assemblea qua di tutti quanti noi insieme valuti quella che è la mossa che la polizia oggi ha fatto e la valuti a livello politico al di là del fatto stesso tecnico, giuridico di un cavillo più o meno giusto che è la mossa che la polizia ha tentato mi sembra almeno per l'analisi che io personalmente ne faccio che la mossa della polizia abbia uno specifico senso politico e in relazione al fatto di questa giornata ritengo necessario che o voi dell'organizzazione o godare o chiunque altro qui in sala porti avanti questo discorso perché mi sembra in pratica in cui loro vogliano proprio cercare di deprimere in un certo senso quello che è l'espito o spirito di questa giornata questo è il senso della mia vista e pezzo da questo modo di vista c'è anche una cosa che Pirro aveva trascurato nel suo discorso prima il suo racconto cronaca e cioè che la polizia oggi è entrata al cinema moderno prima dell'inizio della proiezione ha mandato un gruppo di agenti che hanno preso posto nella sala e che gli agenti della della polizia tributaria sono andati in cabina di proiezione senza esibire il mandato di perquisizione e quando questa cosa si è fatta severamente rilevare hanno detto va bene va bene andiamo via dalla cabina avendo già nel frattempo visto che la copia non c'era quindi ci sono oltretutto anche dei comportamenti di tipo provocatorio e di tipo arrogante della polizia c'è una proposta per chi non l'ha sentita di fare una denuncia a questi agenti per violazione di domicilio da sottoscrivere qui il domicilio non è nobile però questo è un mandato è del gelentino il cinema questo è il cinema ora quando il 28 e adesso non il cinema quindi pertanto noi la risposta non è tanto sul calitare dei giudizi che no se noi oggi siamo qui siamo qui perché siamo dei lavoratori perché siamo amanti del cinema un cinema democrafico e non fascista come quello della mostra vogliamo una mostra più libera e adatta a tutti ma tanto noi se domani non c'è la mostra la nostra risposta non dobbiamo attendersi che ce la chiano gli organizzatori perché gli organizzatori se la d'arrestano e se la d'arrestano domani sicuramente sarebbero già dentro ma la risposta dobbiamo dare a noi come lavoratori come stitoli a partiti democratiche e di grande questa è una risposta politica che la vedremo domani ma non è vedendo se è giurato il domicilio o no ma la risposta noi la sappiamo sempre ma non è una cosa anche democrafica più responsabile di tanti altri che volevano noi sentiamo se siamo veramente dei lavoratori di grado se siamo delle persone che credono di avere la risposta di dir sapremo dare questa risposta domani grazie grazie ma non è una cosa che gli autori cinematografici italiani sono 200 che gli autori cinematografici italiani nel loro complesso sono 200 il mondo 25 27 anni fa mi sono rotto il culo come ha detto la compagna a tutti perché le cose cambiassero e 25 anni dopo trovo che le cose non sono cambiate fra l'altro sono molto timido fra l'altro è veramente che c'è una specie di super emozioni, nei peri momenti, la polizia, il ragazzo l'ha detto oggi abbiamo scoperto che la polizia fa le specchierie, abbiamo scoperto, lo sappiamo da tempo, non sappiamo, era prevedibile, io stasera sono venuto a vedere un po' i miei bambini ne ho quattro, bambini che sono già tutti appunto, io sono stato detto ma sarà, stasera avevamo i schemi di botana, e purtroppo è così, adesso vengono fuori i cavili, il firro stesso ci dice che lui non è un leguleio, lui è un cineasta e quindi anche per lui la faccenda è problematica, è chiaro che è problematica e non so se ne usciremo, comunque l'unico modo per avere una speranza di riuscire è di far sì che gli autori, i cento autori, poi hai detto cento, che i cento autori siano a servizio della classe, questi cento autori facciano la scelta e dicano noi vogliamo un cinema per la classe e allora si presentino la classe in termini di classe e non partano nessuno e allora, e allora, amici cari, se siete con la classe, se siete con la classe siete anche con me e saprete, e saprete allora che, altro che i film di Godard vedremo tutti i film, tutti i film di Godard vedremo tutti i film di Godard, ma finché non arriviamo a questo e lo so che alla fine potrete dirmi che io ho fatto il discorso demagogico e chiaro, fare i riferimenti eccetera eccetera, no, so che c'è da lottare, so che c'è da lavorare, ma appunto è inutile che partiamo da posizioni trionfalistiche, c'è tanta strada da fare, c'è tanta strada da fare, ma questa strada non possiamo farla prescindendo dalla classe, è soltanto dalla classe e qui mi ripeto, solo la classe può dare la vittoria, se non c'è niente da fare, i cento autori oggi protestano perché vogliono una maggiore rappresentatività e non solo domani, ma nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, possiamo dire anche come possiamo dire delle cose più precise per quanto riguarda il cinema più precise, le cose che ha detto il contrario, possiamo, per esempio, a noi ci interesserete, rispondere a una question che aveva posato un altro camarade là-bas, che mi sembrava una question molto interessante, e che era una question molto semplice, quando lui chiedeva cos'è un film? Il aveva non solo dit ça, il aveva detto qu'est-ce qu'un film légalmente? E cos'è un film légalmente? Il serait très interessante di comparare, rien che dans cette salle, il y a déjà une quinzaine de definitions différentes. Sarebbe interessante di fare paragoni, e soltanto qui nella sala ci sono almeno una quindicina di definizioni. C'è la definizione della polizia, c'è la definizione del PCI, c'è la definizione del PCI, c'è la definizione dei signori Gorin e Godard che sono produttori dei film come il signor Amati. c'è la definizione del PCI il signor Amati C'è la definizione dei specificati C'è la definizione dei specificati Parmi les specificati, c'è c'è cequino animale il cinese e ciò che non veng ballate A features che vengate nel cinema e que ne vengate La Todd hizo la fine E questa situazione c'è molto da dire su questa situazione che ci pare molto confusa e grotesca. E dove ci sembra che le responsabilità sono lungi dall'essere. Sono lungi dall'essere nelle mani soltanto della polizia. Abbiamo ovviamente anche delle cose a dire. È difficile di dire questo giorno come questo. Noi preferiamo, se il film può essere progetto demain, le dire a l'occasione del film, perché abbiamo un obiettivo preciso di discussion che ci aiuta a parlare. Per noi è un po' difficile di parlare e di precisare queste questioni. Se il film viene proiettato domani, allora preferiamo fare il dibattito quando c'è il soggetto del dibattito che è visto. Perché, precisamente, questo film risponde alla sua maniera, alla questione di cui è un film. La questione della cultura. E la questione della cultura. E quale cultura? E quale cultura? E per chi e contro chi questa cultura? E per chi e contro di chi questa cultura? E se chiede di rispondre, e siamo cercando di rispondere, non mangiare una risposta, ma ponendo altre nuove questioni. Perché ci sembra che si pone sempre le stesse questione e come il compagno siamo stanchi da 25 anni di vedere sempre le stesse questione. Le stesse risposte a queste vecchie questioni. Perché è un discorso che ci ha fatto toccare con mano la condizione umiliante, alienata, subalterna dell'autore, soggetto, come nel caso Bellocchio, ad interventi che si rivelano poi arbitrari, alla luce di una logica culturale da parte del proprio produttore, di fronte alla condizione nella quale noi tutti vediamo il valore intellettuale, il valore culturale dell'opera artistica, essere assolutamente subalterno a quella logica commerciale che rimane l'elemento fondamentale che oggi sembra dominare nel mondo del cinema. Ecco perché, amici e compagni, un discorso come quello che a me è sembrato di cogliatacolo debbono compiere, ma di quello che le forze politiche debbono fare per comprendere questa che non è l'esigenza singola di uomini o di gruppi, non è un discorso corporativo. Una delle cose più sciocche che sono state dette su queste giornate è che esse rappresentavano un momento corporativo nei confronti di una realtà che invece corporativa non era. Devo dire che se coloro che hanno affermato questo avessero, se non altro, ascoltato o letto il tipo di interventi che sono stati fatti in questa sede, si sarebbero accorti che il discorso corporativo non era, che affrontava invece finalmente, non in termini puramente, strettamente, così dico, di aggiustamento, ma in termini, diciamolo pure, filosofici ed ideologici, cioè con il coraggio di cercare di andare a vedere quello che è il dato unitario, che è la radice fondamentale di una scelta di attività culturale, è che tutto questo diventa poi, nel momento in cui cercheremo di tradurlo insieme nelle forme di un operare politico, un fatto profondamente nuovo. Non si discute allora soltanto di come modificare una legge, si deve discutere anche di come modificare una legge, altrimenti i nostri discorsi rimangono vuote parole, ma si discute di una forma, se volete, diciamo nuova, forse tanto nuova non è, però di una forma, di un atteggiamento, di una condizione dell'intellettuale che viene finalmente a diventare un fatto di coscienza politica, viene ad assumere quindi quegli aspetti, quelle caratteristiche che fanno diventare allora la migliorazione del denaro pubblico. Per dirla molto in breve, mi pare che di questo si tratti, il meccanismo dei ristorni è lo strumento, diciamo, più evidente di questa concezione, di questa impostazione. Il problema è di vedere se noi siamo in grado di esprimere una proposta che organicamente rappresenti il rovesciamento di questa concezione pur prestandosi a inconvenienti e a pericoli, a inconvenienti e a pericoli. Si tratta di vedere se noi contestiamo decisamente questo tipo di mercato cinematografico e l'assunzione di questo tipo di mercato a punto di riferimento per l'intervento pubblico nei confronti del cinema e invece portiamo avanti un discorso, indichiamo soluzioni che prevedano altre forme di verifica della bontà dei film in funzione dell'affermazione di un pubblico nuovo e di un cinema, come si dice, di idee e di qualità. Ora noi avevamo avanzato indicazioni che certamente si prestavano, si prestano tuttora a discussioni e a obiezioni. Chi è che poi deciderebbe per conto dello Stato se un determinato film è o non è un film di qualità sul piano dell'impegno ideale, culturale, civile, sul piano dell'espressione artistica? Certo, noi abbiamo anche qui cercato di dire quali garanzie si possono richiedere, si possono prevedere per far sì che questo giudizio sia espresso con la più ampia apertura, con la più grande serietà in maniera che questo meccanismo di selezione non diventi pericoloso nelle mani di certe rappresentanze. Noi innanzitutto pensiamo che si debba trattare di rappresentanze realmente democratiche, espressione della cultura cinematografica, espressione del mondo del lavoro, delle organizzazioni del pubblico e così via. Però non è solo questione di tipo di rappresentanza, è certamente anche un campo nuovo da esplorare ed è anche un'incognita da affrontare quella di un tipo di intervento dello Stato che, ripeto, si basi su altre forme di verifica della bontà del film e su una concezione radicalmente diversa da quella attuale che si affida al giudizio del cosiddetto mercato. Però ecco, anche al di là delle forme indicate, suggerite da noi, se ne possono trovare, la discussione è aperta, il problema è di vedere se ci si trova d'accordo sulla necessità appunto di rovesciare la concezione su cui si basa la legge attuale. Essenziale però è a questo proposito affrontare il problema del pubblico, quindi affrontare i problemi della distribuzione e dell'esercizio che non a caso hanno avuto tanto rilievo anche questa mattina nella relazione bizzarri. E qui bisogna essere franchi. Quando noi discutiamo di rapporto con la classe operaia, col movimento dei lavoratori, di intervento, di impegno del movimento dei lavoratori nella battaglia per un cinema nuovo, bisogna sapere come stanno le cose, non bisogna riempirsi la bocca di espressioni vaghe, non bisogna indulgere a miti di nessun genere e noi dobbiamo sapere che innanzitutto oggi una grandissima parte della classe operaia italiana, dei lavoratori italiani, non è in grado, non è in grado più che di andare al cinema, di vedere al cinema quello che di meglio produce oggi il cinema italiano. I film che sono espressione di quel filone democratico e progressivo del cinema nostro che negli utili... ...che sono qua dentro, si ricordino cos'era il fascismo in Italia, se lo ricordino bene, cos'era i fascisti, cos'era la brigata nera, fate i partisani, combattete contro il fascismo, anche oggi, scusatemi se mi sono permesso di parlare così, io la penso così, cari amici, compagni, come voi si chiama, tovarici, ma come voi si chiama, ditemelo voi, io sto tremando perché vedendo questo film mi ricordo, sono la domani a Mauthausen io, e mi ricordo quello che è successo in Italia, io ho 48 anni, sono giovane, vecchio, non giovane, vecchio, però vedendo queste cose, ricordatevi cos'era in Italia nei tempi del fascismo, decima massa, brigata nera, fascisti, oggi erano un momento sociale in Italia, ricordatevi queste parole, combattete contro il momento sociale, combattetelo sempre sempre al cento per cento, grazie. 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 Ecco, io vorrei chiedere una cosa, cioè ho saputo, ho stato a conoscenza che durante il periodo in cui in Francia era il governo generale De Gaulle, alcune manifestazioni di questo genere so che in Francia non erano permesse. e tutto quello che riguardava l'Algeria e questa guerra che ha visto la Francia come paese imperialista al fianco dell'Inghilterra e di altre nazioni che hanno conosciuto il colonialismo. Un contributo, un tentativo di contributo a questo film che pone una serie di interrogativi una serie di interrogativi che non sono solo i problemi dell'Algeria ma sono i problemi non solo del paese sottosviluppato come quello che diceva che mi ha preceduto ma un problema che investe la società, che ha investito sempre la società nelle sue varie fagi se noi osserviamo nella storia, oggi con il cinema, fatto bene con la televisione, fatto bene come questo film la possibilità, la massa e le grandi, fare dei film che fanno pensare il perché si può arrivare a queste cose qua un paese come la Francia, che aveva fatto la rivoluzione francese, cioè sulla base della libertà dell'uomo a opprimere altri uomini, noi guardiamo questa parabola discendente che ha fatto un paese il perché, e questo potremmo analizzarlo anche in altre fasi storiche da Gesù Cristo siamo arrivati a Torquemala, com'è possibile arrivare a questo? questi sono problemi che pongono questi film quando si osservano questi film e io non so portare un altro contributo in questo momento il problema è di operare questi mezzi che dalla tecnica moderna, dalla televisione al film in modo che la gente possa pensare, che possa ragionare, che possa pensare liberamente ed esprimersi perché è un problema, diciamo così, che la violenza, questa era una violenza fisica di un'opressione di un pogol ma diceva prima, nella sua introduzione, ci sono altri tipi di violenze perché la violenza di non poter parlare in un'altra maniera, di poter esprimersi di organizzarsi, anche quello è un tipo di violenza naturalmente questa qui è la peggiore, la più violenta, adatta a una città coloniale che sta per libertà ma il problema è un altro, come si può arrivare un paese che ha fatto la rivoluzione francese a queste condizioni? Fico, della Sava Scusate un attimo compagni, io direi che secondo il mio avviso, se devo fare una critica o dare un giudizio a questo film, devo dire che secondo il mio avviso è positivo in quanto ha trovato ha trovato uno spunto che per noi come lavoratori di Porto Marghera io forse parlo così perché vengo fuori da un'azienda dove il colonialismo non è mancato e non a caso ho avuto la possibilità oggi qui di portare alcune foto appunto per questo film dove parlava di colonialismo e mi ha dato la possibilità e ringrazio anzi di approfondirlo fino in fondo che cosa vuol dire colonialismo noi vedendo e ce ne saranno due operai della Sava qui una proiezione del genere ci teniamo veramente conto cioè prendiamo atto che è una situazione che ogni nazione ogni nazione sottosviluppata come la nostra perché diciamolo così se non abbiamo coraggio di difenderci oppure di essere liberi vuol dire che siamo sottosviluppati abbiamo la possibilità di dire bene, queste situazioni sono venute fuori dieci anni fa dodici anni fa in Algeria ma ci sono ancora oggi in Italia dove quando ci sono dei momenti ecco perché c'è il collegamento tra quel filmato che abbiamo visto e le nostre realtà abbiamo dei momenti dove non abbiamo coraggio politicamente politicamente di esprimere di esprimere fino in fondo ciò che noi vorremmo esprimere cioè come persone libere e questo è molto importante a dirlo finisco scusate dicendo questo che è importante per me vedere così dico per me un film del genere perché veramente mi dà una realtà che adesso a Porto Marghera non manca ieri è stata l'Alu Suisse attraverso la Sava che ha fatto il bel colonialismo ieri sono stati i francesi oggi ancora adesso vanno avanti a farlo in determinati paesi in altri paesi gli americani fanno quella politica di colonialismo però ricordiamoci sempre fino in fondo che anche qui a Porto Marghera nella nostra realtà ci sono queste situazioni e non dimentichiamocelo perché e questo è importante non dimenticarci delle realtà che abbiamo vicine dei piccoli dei ferrovieri se io mi scuso subito come premessa perché non entrerò in merito al film del regista il compagno Algerino non entrerò nel merito anche perché è già stato detto abbastanza sia sulla stampa nei giorni che è stato proiettato il mercoledì alla manifestazione del cinema a Venezia e io penso che il dibattito in questa occasione molto importante per noi lavoratori che abbiamo organizzato nel nostro limite del possibile questa manifestazione qui al cinema Dante a Mestre sia quella della proposta politica mentre lo ridevo involontariamente facevo il confronto con un altro film che trattava della guerra di indipendenza dell'Algerina la battaglia di Algeri e ho visto che per esempio in questo film si riprendevano certi temi come per esempio lo sposalizio del protagonista e cose di questo genere la morte della moglie e così via che secondo me non erano strettamente necessarie ai fini di quello che il film si proponeva io sono d'accordo con quello diceva adesso a proposito delle finalità del cinema che deve essere usato in modo alternativo e credo anche che questo film in confronto alla battaglia di Algeri rappresenti un passo avanti rispetto a una pienezza direi di motivazioni che hanno portato la popolazione algerina a sconfiggere il colonialismo francese nel senso che nella battaglia di Algeri per esempio c'era strettamente il tema dell'indipendenza della nazionalità eccetera mentre qui abbiamo visto degli spaccati dello sfruttamento economico e quindi abbiamo cominciato a dare corpo direi a certi valori che sono poi anche i valori tradizionali di un certo umanesimo che in questo film abbiamo anche visto sconfitto rispetto all'umanesimo vero che è l'umanesimo rivoluzionario cioè per esempio quel ricatto morale che il colonnello faceva al protagonista nel senso o parli oppure ammazzo i 16 i 18 i 20 e quelle scene finali che facevano vedere invece l'umanesimo l'umanesimo rivoluzionario cioè il sacrificio di tanti e quindi una morale borghese che cade che era quella salvi 16 vite se parli insomma ebbene muoiano muoiano tanti però il valore vero è quello dell'autodeterminazione delle masse insomma quindi credo che il messaggio di questo film sia molto più valido di quello della battaglia di Algeri per esempio però ecco le critiche che io faccio sono rivolte a certe scene che io giudico così un pochino un pochino superflue no? cioè nel senso che si rifanno così a un certo direi mestiere mi scuso con il regista no? cioè nel senso di giocare con delle immagini di farle cioè che hanno dietro il valore di rappresentare quello che che sono che so le esperienze umane ma individuali no? del protagonista e che sono certamente dei valori da salvare in quanto dico la rivoluzione non è certamente la negazione dei sentimenti dell'individualità eccetera no? che però dico a volte rischiano di 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 disperdere il messaggio centrale che è quello più valido che è quello più essenziale cioè in poche parole io credo che ci dovrebbe essere non ha cercato di capire delle contraddizioni della civiltà occidentale della civiltà francese della civiltà francese ma è cercato di entrare nelle contraddizioni di questa civiltà per distruggere se il problema si il problema s'était posato simplement entre il comandante fascista e il dialogo si il dialogo aveva existito entre il comandante fascista e il resistore non c'era il problema perché il avrebbe amenato la torture direttamente non c'era il film non c'era il dialogo se il problema fosse stato soltanto di un incontro di uno scontro tra il colonnello fascista cioè il generale fascista e il prigioniero questo sarebbe stato mandato subito alla tortura non ci sarebbero state esitazioni par contre par contre après la répression l'invasion française all'Algérie a essayé d'imposer sa culture all'Algérie a essayé d'aliéner l'homme algérien par sa culture invece la civiltà francese in Algeria ha tentato non solo con la violenza della tortura ma anche con la cultura di alienare l'uomo algérien n'oubliez pas che pendant le lavage de cerveau pendant che le colonel lavare il cerveau du résistant algérien lorsqu'il lui a dit l'ordre nous la civilisation la culture l'autre lui a répondu votre culture ne trompe plus personne il vous restera le champagne et les parfums et a partir de ce moment cet homme cultivé qui est de tradition morale qui est de père saint-syrien qui est de père général qui est le prototype de la bourgeoisie française est devenu un animal parce qu'il l'a insulté parce qu'il lui a dit deux mots simplement il vous restera le champagne et les parfums et il a sonné pour l'envoyer la torture nel tentativo di lavaggio del cervello nel primo incontro tra il colonnello coltivato che viene dall'accademia di sensia che ha una tradizione di estrema cultura e il prigioniero c'è ad un certo punto un dialogo in cui alla domanda del prigioniero parlando dell'ordine il colonnello dice regnerà l'ordine l'ordine cioè noi cioè la cultura la civiltà a questo punto la risposta è la civiltà e l'ordine quello che avete fatto voi è già finito è già distrutto non esisterà più niente quello che potrà restare sarà soltanto per voi lo champagne e il profumo cioè rifiutando completamente non soltanto la guerra l'imposizione ma anche la proposta di un ordine fondato sulla cultura occidentale a questo punto allora l'uomo di cultura diventa un torturatore cioè non manda la tortura si comporta come un animale e non più come un uomo di cultura occidentale perché ce che conta per noi d'abord ce n'est pas simplement di détruire l'armà francese noi l'avamo fatto non è soltanto un fatto di distruggere l'esercito francese l'armata francese questo è stato fatto noi l'avamo fatto par le armi questo l'abbiamo fatto con le armi con 1.500.000 morts con 1.500.000 morts ma ciò che importa per noi oggi per noi per noi per l'avamo l'avamo è di provare di disalienare di disalienare l'uomo algeriano che è resta più o meno sujet alla cultura francese e io sono un prototipo io sono il prototipo di una contraddizione di questa cultura francese di questa cultura orientale è per questo che mi spiega in francese e che anche il mio linguaggio cinematografico rapporto un po' a l'Occident quello che è importante ora e che è il tentativo che ha fatto con il film che sta facendo è quello di distruggere di disalienare l'uomo algerino di distruggere quella cultura francese che si è inserita all'interno della cultura algerina cioè della cultura del terzo mondo e in questo senso dice di essere lui stesso una contraddizione vivente cioè un esempio di questa situazione di contraddizione tanto che il linguaggio del film è il linguaggio francese e tanto che lo stile spesso del film è rifletto da un lato quello che può essere una cultura del terzo mondo dall'altro quella di una cultura cinematografica francese occidentale proprio come una contraddizione esistente nella realtà c'è un po' c'è un po' c'è un po' c'è un po' venezia giorno 2 9.62 la scelta di questo gruppo esterno piazza notte è una scelta particolare di questo gruppo che non ha una connotazione politica precisa se tu ti sei accorto se tu ti sei accorto nel film ci sono delle posizioni diverse c'è un compagno del partito comunista che è Roberto c'è una ragazza di 16 anni che è legata al gruppo a livelli addirittura sentimentari quindi tutto ciò che succede è semplicemente una progressione all'interno di quella storia di quella vicenda quindi la scelta della campagna non è una scelta se vuoi marxista-leninista o non è che i gruppo school debbano fare una simile scelta è semplicemente una vicenda nel leader della storia quindi io non voglio dare un giudizio se è positivo o negativo a quella scelta che ha fatto il gruppo anche perché come tu hai visto nel film c'è qualcuno che è rimasto in città e che anche se non è su posizioni molto diverse è rimasto in città e ha scelto di fare il suo lavoro di attore altre domande in modo non tradizionale ritiene molto importante la scelta di questo mezzo ho visto che è un nuovo modo di rispressione oppure ritiene che a questo punto raggiunge gli stessi risultati anche raccontati nella faccenda in modo tradizionale provate i due solamente perché beh ma per la uno solo vogliamo cercare di mettere l'impianto grosso no perché questo qui è abbastanza c'è l'altro provando a parlare verso l'alpo ti sente meglio? allora probabilmente tu ti riferisci alla prima parte del film che ha un tono molto emblematico mentre la seconda parte probabilmente ti sembra molto più semplice più lineare a parte il fatto che questa è la scelta anche ideologica che fanno i personaggi di questo film perché nella prima parte si parlano un po' addosso sono ancora personaggi diciamo alla ricerca e in crisi alcuni in crisi alcuni alla ricerca in effetti nella seconda parte questi personaggi a volte con un atteggiamento anche infantile infantile in senso politico cercano di fare delle cose fanno delle cose per cui è molto più semplice fruire questo film c'è anche un motivo questo film è stato terminato ti ripeto nel 68 per cui certe sequenze questo lo devo dire a onor di sincerità sono state tagliate in un certo modo e non erano e non erano montate per questo tipo di film questo film è stato recuperato perché i produttori non volevano che cioè il produttore in sostanza non voleva che fosse finito perché costava troppo rispetto al possibile al possibile rientro per cui soltanto nel 72 attraverso la televisione dietro una mia dichiarazione che avevo desiderio di andare a vedere qual era l'esperienza culturale di un gruppo di attori volevo rivedere qual era l'esperienza culturale di un gruppo di attori ho potuto finire il film quindi il film pronto è stato tagliato è diventata la prima parte e sono andato a rivisitare gli attori o questi ex attori che ormai facevano altre cose e poi c'è un altro motivo è un film che costa molto poco cioè un film che costa 16 milioni per chiunque fa questo mestiere sa benissimo che una coppia a colori con delle trucche che avevano recarsi in Francia insomma è piuttosto povero quindi questo non mi permette di chiarire molte volte o di allungare certe sequenze e questo penso però che è stato abbastanza risolto con il dialogo che molte volte è molto didattico e mi pare anche molto semplice ancora qualcuna avanti qualche altra domanda per favore mi fa piacere rispondere a delle domande carpate senti intanto io ci ho provato a confianzare l'Agnelli ma non mi è riuscito troppo bene Agnelli non ha voluto finanziarlo anzi non mi ha fatto neanche girare dentro la Fiat e neanche fuori e anche i cancelli sono rubati da molto lontano forse troppo appunto che spesso non si capisce che la mia e vabbè che tu dica che si debba vergognare il cinema italiano mi pare troppo se me ne devo vergognare io perché vuoi dare questa colpa a tutto il cinema italiano non è il caso e poi il film nazista fascista questo vabbè non so non era l'intenzione ma non credo neanche che venga fuori questo credo che sia solo una tua opinione quanti ai peridionali tu non li conosci io sono peridionale sono di lì e ma ci sono anche peridionali stronzi purtroppo e no però ti assicuro quando tu dici che l'operaio quando tu dici l'operaio meridionale non è così ma che risposta lui non fai una domanda seria ma stiamo qui per parlare perché ma eh ci vanno a sedere senti no no ma volevo parlare un momento dell'operaio meridionale ci sono degli operai meridionali certo molto con coscienza di classe operai politicizzati operai sindacalizzati e io non ho parlato affatto di quelli come è chiaro ho parlato così di una specie di ah un ragazzetto che arriva che non sa assolutamente nulla che prende lo sfruttamento come privilegio che il posto di lavoro è un dono è un regalo per cui le 60 aprile a lei le manda a casa per noi sono il massimo quindi è chiaro che non parlo assolutamente di un meridionale con coscienza di classe parlo di un meridionale di un meridionale che purtroppo però è la maggioranza rappresenta la maggioranza dei generali quando lasciano le loro terre poi è chiaro che dopo un anno o due l'opera dei sindacati dei gruppi delle lotte continue li cambia un po' e questo io potrò dare solo l'inizio infatti il film finisce con un inizio di film quindi quando dici che il meridionale non è così non è vero se tu avessi letto Salvevini ma non credo ecco Salvevini diceva dice se ti dicono che hai ucciso la Madonna e sei meridionale scappa perché è così perché il livello è quello anche se tu credi che sia un modo di razzista o fascista di rappresentare in meridio ma io vorrei riallacciarmi così alle ultime parole di scuola quando dice che la fine del film è in fondo l'inizio cioè la conclusione drammatica di questo ragazzo che si chiude in una disperazione individuale mi sembra potrebbe comunque prospettarsi un'evoluzione una domanda che ti faccio quale potrebbe essere appunto fare un discorso più generale che trascendi il film e che vesta la condizione del meridionale che vesta la condizione meridionale in una città industrializzata quale potrebbe essere appunto dal tuo punto di vista diciamo ideologico secondo le tue concezioni così della società e del mondo del lavoro quale potrebbe essere l'evoluzione in questo caso del ragazzo cioè tendenzialmente noi avremmo un futuro integrato come lamentava la ragazza e quindi un servo quasi cosciente dei padroni oppure un ragazzo che acquisterà probabilmente una precisa coscienza di classe e pur rimanendo sul posto di lavoro e questo è anche un riferimento importante perché il ragazzo nel film è combattuto il ragazzo nel film è combattuto va bene il ragazzo nel film è combattuto tra problemi esistenziali che non vanno sottovalutati i legami alla famiglia originaria il mantenimento che ludeva la famiglia è un problema esistenziale grosso che non può essere sottovalutato e che il meridionale capisce solo i meridionali in questo sta anche il distidio mi sembra con la ragazza del nord che non può capire questa condizione esistenziale del ragazzo perché la ragazza è indipendente ma non ha problemi di mantenimento nei confronti di altre persone ora io ti chiedo appunto nell'inquadratura morale e personale di questo ragazzo quale potrebbe essere l'evoluzione se è un'evoluzione tipo oppure possa esaurirsi soltanto nella vicenda individuale storica di questo ragazzo rivedere veramente la loro posizione di fronte al mondo ma non so forse hai ragione a parte che parli ancora di movimenti di macchina mi sembri di una vecchiaia oppure sei giovane i capelli lunghi parli di movimenti di macchina di zoom di roba che non esiste più ma ci sono ci sono perché è un mezzo meccanico che tu utilizzi così come la macchina fotografica ma non è una retorica perché così sono dei mezzi che devi usare anzi se c'è un film dove il regista è entrato il meno possibile è questo perché non ci sono virtuosismi di macchina non c'è nulla anzi se una macchina piazzata lì con chassi lunghi finché durava quello che parlava parlava o poi in riferimento sia alla vittima le strizzatine d'occhio le cose ma non vedo perché bisognerebbe rinnegare o vergognarsi solo perché tu dici questo si fa un lavoro poi quando puoi quando i mezzi te lo permettono ti fai per conto tuo una cosa e la fai in modo diverso ma non vedo perché devi rinnegare quello che hai fatto prima è chiaro che se devi rispondere a un committente se sei onesto se sei un professionista lo devi fare in un certo modo quando lo fai per conto tuo allora puoi anche spegnare eh beh se non era diverso se non era diverso avrei trovato da piazzare il film avrei trovato da farlo uscire invece ti assicuro ci ho provato grazie a tutti Grazie. 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 Grazie.